Tana Madonna. Secondo il folclore tipico del romagnolo esisterebbe questa grande dea madre chiamata con il nome apotropaico di Tana Madonna, invocata spesso e volentieri, ma quello che è molto curioso per noi studiosi è che da questa dea madre nel corso del tempo sono nate delle sottodivinità, delle sottodee, in particolare sembra che in base al quando viene invocata e al come viene invocata, alla Tana Madonna di origine subentrino le vocali dell'alfabeto italiano. Tana Madonna, ripetiamo insieme, Tana Madonna, potente, con un bel accento piano perché se fosse sdrucciolo non funzionerebbe uguale. Tana Madonna è come un diesel, prende forza sulla lunga distanza, si incattivisce alla fine come uno sprint di coppi lanciato a tutta velocità verso il traguardo dello smadonnamento, rompe il muro del suono e fa tremare le colonne del paradiso. È una ciliegina sulla torta dell'amarezza, è nichilista, è russa, è un po' la Luigi Tenco delle imprecazioni, i suoi sacerdoti la invocano con voce diaframmatica, un po' alla gasman e è importante non perdere nessuna delle sillabe ma scandirla fino in fondo Tana Madonna Madonna Madonna. Un rituale tipicamente maschile e quando tu uomo compri la tua auto nuova fiammante la parcheggi, fai due vasche in centro e quando torni lo vedi mentre stai per sederti sull'abitacolo nella fiancata qualcuno, certo uno sprovveduto, per fare manovra, tac, ha dato una toccatina. Tu vai a controllare e ti ritrovi questa sbraganata bianca che non ti basta lo stipendio né la tredicesima, lì ho controllato io personalmente il linguaggio tipico della perizia, danno stimato in euro Tana Madonna 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 Tana Madonna